Sì, eccoci Lucia, e allora siamo entrati come promesso all'interno del santuario dove ci accoglie il rettore del santuario, Don Renzo Vannoi, buongiorno. Buongiorno e ben arrivati. Grazie mille, ben arrivati anche i nostri telespettatori. Noi ci incamminiamo per la scala che avete appena visto, perché proprio in cima a questa scala c'era quella stato della Madonna tanto cara, proprio a Don Orione. Ma questo santuario è stato proprio voluto da Don Orione stesso e creato proprio attraverso la misericordia. Sì, è un santuario che nasce per un voto di Don Orione. 1918, siamo nel mese di agosto, esattamente il 29 agosto, solennità della Madonna della Guardia, e Don Orione raduna quelle donne che lavoravano in questo quartiere, facevano le lavandaie, dicendo se i vostri figli e i vostri mariti torneranno dal fronte sani e salvi, noi costruiremo un santuario alla Madonna. Tornano e allora, ecco, realizzarsi il voto e subito dopo, negli anni 20, Don Orione dà inizio alla costruzione di questo bellissimo santuario. La sua vicinanza, la vicinanza di Don Orione alla devozione popolare, alla pietato popolare, ha fatto in modo che lui volesse veramente che questa Madonna fosse raggiungibile, perché qua dietro ci sono proprio delle scale che consentono a chiunque, anche numerosi pellegrini, che ogni giorno affollano questo santuario, di avvicinarsi e toccarla. Certo, lui anzitutto titola al santuario la Madonna della Guardia, perché questa Madonna, col titolo della Guardia, ha guardato questi uomini che erano al fronte e li ha fatti tornare. E Don Orione voleva che la devozione alla Madonna fosse sentita, fosse palpabile. Ecco allora questo itinerario, queste scale che salgono fino a toccare il piede della Madonna. Ogni pellegrino che entra in questo santuario deve arrivare a toccare il piede della Madonna per chiedere, attraverso la sua intercessione, grazie particolari. Lorenzo, l'amore per la Madonna è sempre stato presente per Don Orione. In particolar modo lui, che quando viveva qua a Tortona abitava non lontano da qui, infatti sono ancora presenti i luoghi dove lui ha vissuto, la sua stanza, i suoi ricordi, aveva una statua di una Madonna, una Madonna che poi lui chiamò Madonna della Providenza. E' quella statua che noi costudiamo nella casa che chiamiamo Casa Paterno, nella piccola cappella di questa casa, dove Don Orione l'ha posta proprio a custodia di tutta la congregazione. E lui dice sempre che la sua congregazione, nata in un venerdì santo ai piedi della croce, è stata proprio amata, cresciuta dalla Madonna della Divina Providenza. Lucia, fra poco ci collegheremo nuovamente dal santuario per conoscere ancora dei particolari che ci sono da svelare di questo meraviglioso santuario, fatto non di mattoni ma di Ave Maria, come soleva dire, proprio Don Orione. Grazie. Grazie.